C'è chi festeggia così e chi festeggia così Ma chi l'ha detto che il Capodanno deve per forza celebrarsi fra peste, fiumi di spumante, musica e trasgressione? Nel bel paese c'è anche l'alternativa per un San Silvestro più spirituale. Da qualche anno a questa parte infatti vanno forti i soggiorni in abbazie, monasteri e conventi che vengono aperti al pubblico per esperienze sì di fede ma anche di relax e di riflessione per riprendersi insomma il tempo sottratto dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Mentre milioni di persone affollano piazze e ristoranti ci sono anche laici che nell'ultimo giorno dell'anno decidono di dedicarsi alla ricerca della spiritualità assistiti da guide preparate. Un esempio è questo monastero, il monastero di Valle d'Acqua, che si trova nei prezzi di Acquasantaterme. Per l'ultimo giorno dell'anno è già tutto sold out. I prezzi variano dalla semplice offerta libera a cifre che comunque non superano quelle dei pacchetti weekend alle terme. Si offre una stanza calda dove riposare e dei pasti semplici, lontani dai cenoni estenuanti cui siamo abituati. Abbiamo delle richieste, persone che vogliono trascorrere così dei giorni, vogliono stare un pochettino fuori da casa, vogliono respirare questo clima natalizia in questo posto. Abbiamo delle richieste e continuiamo ancora a riceverle. La mezzanotte è solitamente accompagnata da una preghiera di ringraziamento dove tutti possono condividere insieme ai nuovi fratelli gioie e speranze per un nuovo anno e una vita rinnovata. Che dire, una valida alternativa per chi dopo le luci abbaglianti del Natale consumistico vuol vedere un po' di luce interiore. Un soggiorno da consigliare a tutti, l'ideale soprattutto per il capodanno del 2012. In caso di fine del mondo, nessun'altra location sarebbe più appropriata. Un soggiorno da consigliare un po' di luce interiore.